Ciao a tutti e benvenuti in questo primo episodio di Galtastico, il nostro canale. Oggi parleremo di una domanda che vi siete posti intanti. Ma tutti sapete che i gatti cadono in piedi e oggi vi spiegheremo il perché. I gatti cadono in piedi per colpo della loro stupida coda. Se li tagliate la coda, infatti, loro non cadranno in piedi. Infatti, se li lanciate per terra, in una posizione non molto adeguata, cadranno e si faranno non molto male. Grazie della vostra attenzione. Grazie.